Per prima cosa la cosa più importante è la formazione, diciamo che prima ancora della formazione ci sta l'educazione in famiglia e poi soprattutto questi incontri informativi che consentono comunque anche di capire e di approfondire certe tematiche che sono veramente molto importanti. Al di là della tematica importante della sicurezza stradale di fondo c'è anche comunque una tematica sociale che è questo appunto quello che noi vogliamo comunque ben definire attraverso questi incontri.